Buongiorno a tutti di nuovo, stiamo cominciando il webinar di oggi che si intitola Creare Open Educational Resource e scegliere la licenza e condividere le proprie OIAR. Io sono Paola Corti, la WUMA Mated, la Learning Innovation Unit del Politecnico di Milano e sono felice di avere tutti voi qui in questa serie di webinar per lavorare insieme sulla Open Education e capire insieme che opportunità offre e che opportunità offrono le Open Educational Resource a tutti quelli che vogliono condividere conoscenza e lavorare in quest'ambito. Oggi abbiamo come ospite Anna Nerbo che è una docente piemontese di una scuola delle scuole serali e che ci racconterà l'utilizzo che fa delle risorse Open e dei software Open nella didattica. Le sue esperienze sono dal mio punto di vista molto interessanti, per cui sono molto contenta di averla qui. Questa serie di webinar è un'occasione anche per noi della rete Open Education Italia per collaborare e siamo molto contenti di avere anche il patrocinio di Wikimedia Italia che promuove la cultura delle risorse Open molto attivamente, come tutti di voi immagino già sappiate e abbiamo anche il supporto del Creative Commons Chapter in Italia. Creative Commons che è l'organizzazione non a scopo di lucro che ha creato le licenze Open nel 2001. Comincio a condividere lo schermo adesso in modo che voi vediate le slide e nel caso ci siano dei problemi poi ne parliamo. Tanto ho come al solito qui con me Bianca Santolini che ha un ottimo supporto e in remoto Gabriele Cristini che ci dà una mano dal punto di vista tecnico e sono grata ad entrambi per l'aiuto che ci danno. Allora, lo schermo in condiviso dovreste vedere la copertina delle slide. Su questa copertina vedete che ci sono la collaborazione con Open Education Italia, il sostegno di Creative Commons e il patrocinio di Wikimedia Italia. Nella prima slide vedete anche che, eccetto dove altrimenti specificato, queste slide sono rilasciate con licenza CC BY. Significa che una volta caricate su Zenodo, chiunque di voi è libero di riutilizzarle e adattarle alle proprie necessità per continuare a diffondere la cultura open. Dunque, oggi come vi dicevo ci occupiamo di creare Open Education Resources e abbiamo ospite Anna Nervo. Al termine di questo incontro sarebbe bello se tutti noi fossimo in grado di cogliere alcuni degli elementi principali del processo di creazione e poi di integrazione con riuso di OIAR, di operare consapevolmente la scelta della licenza con la quale rilasciare le nostre risorse aperte e poi di creare magari OIAR insieme ai partecipanti ai nostri corsi, quindi cominciare a ragionare nell'ottica del coinvolgimento, della collaborazione e della co-creazione, che è un po' l'obiettivo della condivisione della conoscenza, a prescindere dal mondo open, ma a maggior ragione grazie alle licenze open. Partiamo da quanto è semplice creare una OIAR di livello base, così ci rassicuriamo un po' tutti e vediamo di capire che, tutto sommato, possiamo fare per step di livelli di difficoltà diversi, possiamo cominciare da zero e tutti abbiamo già in pratica le competenze per cominciare a creare una risorsa educativa aperta di base. Facciamo un esempio, allora il primo step è creo una slide oppure un file in qualunque altro formato, un testo, un video, un audio, a voi la scelta. Facciamo una piccola simulazione, pensate a quello che già fate per la creazione delle vostre risorse didattiche quando già avete intenzione di crearle. Secondo step, scelgo una licenza, non la non derivative, come abbiamo detto le volte scorse, se voglio che la mia risorsa sia davvero open e la voglio quindi condividere con altri perché anche loro la possano riusare. Terzo step, carico la risorsa in un luogo virtuale raggiungibile da chiunque. Le parole chiave qui sono luogo virtuale perché la risorsa deve essere digitale e quindi raggiungibile attraverso i canali che internet ci mette a disposizione e che sia raggiungibile da chiunque. Quindi, idealmente, parlo di idealmente, ne abbiamo già parlato le volte scorse, ma anche oggi vedremo perché, e ve ne parlo attraverso esempi di cui noi stessi siamo protagonisti anche al Politecnico in termini di, diciamo, limitazioni oggettive. Quindi, idealmente, dicevo, raggiungibile da chiunque, che significa senza la necessità di crearsi un account, senza necessità di registrarsi a una piattaforma. Dopodiché, questo è sempre fattibile, magari no, vedremo poi come e vedremo che soluzioni si possono adottare per convivere con certe limitazioni e ribadiremo ancora una volta proprio su questo punto che l'approccio open del quale ci facciamo portavoce in questa serie di webinar è l'approccio open più inclusivo possibile. Quindi, che faccia i conti con le limitazioni contestuali che ciascuno di voi può trovarsi ad affrontare e che cerchi il più possibile di considerare open tutte le risorse cui viene comunque associato a una licenza, anche nel caso in cui richiedano la creazione di un profilo, quindi, pur non essendo la soluzione ideale. Quindi, se guardate questi tre step, tutto sommato non sembra un lavoro troppo difficile. Perché? Perché cosa significa creare Open Educational Resources? Significa creare una risorsa educativa con tutti i criteri che adottereste appunto a prescindere per garantirne quindi l'efficacia didattica. È una risorsa educativa, è una educational resource e in questa parte vedete che abbiamo tutte le attività che sono ER, educational resource, quindi attengono a qualunque risorsa educativa anche non aperta, anche non open. Poi valutereste nel creare una risorsa educativa se integrarla eventualmente con altre risorse per voi importanti in funzione dei risultati di apprendimento attesi. Questo significa che possono essere altre slide che avete creato, altri video che avete creato voi, altri testi che avete prodotto voi e di cui quindi detenete il copyright. Oppure potete valutare di integrare risorse educative create da altri, protette da diritto d'autore e da copyright, per le quali chiedete un permesso ad hoc. Anche questo è sempre possibile. Una volta che avete il permesso di riuso, allora le integrate. Fin qui siamo sul fronte delle risorse educative. Il formato è a vostra scelta, sia il formato di origine che il formato finale che volete utilizzare. Per esempio, se scegliete di creare un open textbook, che è quello cui abbiamo accennato la volta scorsa, cioè una risorsa che sia un manuale, diciamo, all'interno del quale potete mettere risorse testuali, risorse video, risorse sotto forma di quiz, risorse sotto forma di file audio, eccetera, eccetera, composte insieme in modo organico intorno agli obiettivi di apprendimento attesi. Quindi i formati possono essere molteplici. di questo risultato, di questo aggregato, di questo aggregato organico in cui voi avete magari fatto uno sforzo anche nel creare il tessuto connettivo, create una versione digitale e fin qui siamo ancora nell'ambito dell'educational resources, cioè risorse educative, create intorno a obiettivi di apprendimento con possibilmente una strategia di valutazione del raggiungimento degli intended learning outcomes, degli obiettivi di apprendimento attesi. Adesso ragioniamo sulla parte open. La risorsa digitale creata, se associo a questa risorsa una licenza Creative Commons che ne spiega i permessi di riuso, cioè dice già di per sé ai possibili riutilizzatori che cosa voi come creatori di questa risorsa state dicendo loro che possono fare con la risorsa stessa e poi la caricate in rete in modo che sia accessibile da chiunque, avete creato una risorsa educativa open. La parte open quindi entra in gioco nel momento in cui voi scegliete la licenza. Tutto sommato, tutta la parte prima la fate già, quindi in misura maggiore, minore, magari la fate solo o finora l'avete fatta solo integrando tra loro risorse che avevate creato voi, magari anche per evitare dei livelli di complessità di cui siamo consapevoli anche noi e che mettono a volte di fronte a qualche sfida che però è esplorabile facendo domande e contando sul fatto che tendenzialmente se chiedete gentilmente se l'obiettivo che avete è un obiettivo didattico e se non è a scopo di lucro nella stragrande maggioranza dei casi i detentori del copyright sono contenti di dare permessi ad hoc per il riuso delle loro risorse. A volte invece attraverso le vostre domande e la vostra richiesta di riuso spiegando che magari avete intenzione di rilasciare la vostra risorsa con la licenza open sono gli autori delle risorse che voi riusate che entrano in contatto con la possibilità di rilasciare le loro stesse opere con una licenza open e non l'avevano mai considerato. Quindi potete essere anche promotori del movimento open potete diventare advocate del movimento open voi stessi anche solo facendo le domande. Un esempio che mi viene da farvi subito dopo magari per la prossima volta vi recupero uno slide e Bianca qui ne è testimone. Quando abbiamo ospitato la conferenza open education global nel 2019 abbiamo coinvolto un artista che faceva allora soprattutto murales nella zona di Lecco ce ne sono alcuni bellissimi in rete poi vi trovo un link lui si chiama Afran ed è, se non ricordo male di origine è senegalese vive in Italia da tantissimi anni e lavora tantissimo anche per aziende private non avevo mai sentito parlare delle licenze open però io le avevo scritte perché mi sarebbe piaciuto moltissimo utilizzare delle fotografie che qualcuno aveva scattato e condiviso con licenze open in rete delle sue opere per cui anche per rendergli noto il fatto che volevamo utilizzare le sue immagini i suoi oggetti d'arte durante una conference mondiale non a scopo di lucro volevo che lo sapesse per cui gli avevo scritto e gli avevo chiesto un permesso insomma anche se le foto erano già disponibili in rete ripeto con licenza open non avevo mai sentito parlare delle licenze open prima e ha considerato non solo di rilasciare almeno le fotografie delle proprie opere con licenza open capendo anche che potevano essere un modo per come per le carte di di Cards Against Humanity il gioco di cui abbiamo parlato la volta scorsa aveva ha capito benissimo che potevano essere anche uno strumento di marketing per lui gratuito per far conoscere le proprie opere e di recente so che è stato contattato per produrre le immagini di una pubblicazione open a livello globale relativa a come l'open può aiutare il mondo della higher education dell'università a livello globale quindi vedete che ci sono tante evoluzioni possibili bionivoche anche da questo punto di vista proviamo a capire insieme che cosa vuol dire scegliere le licenze creative commons quello che vedete su questa slide che non è altro che una screen capture con un titolo aggiunto da me l'invito adesso però di andare anche voi nel nel license chooser e ci vado anch'io dalla mia dalla schermata che sto condividendo e da qui vi faccio vedere non solo il license chooser cioè lo strumento che la creative commons se lo aprite voi avete il browser impostato in italiano vi fa vedere già tutti gli elementi che sono stati tradotti in modo tale da guidarvi nella lingua con cui voi avete impostato il browser quindi se le volete vedere in un'altra lingua potete scrollare come sto facendo io fino a fondo pagina e vedere in quali altre lingue è presente questa stessa pagina ok per cui io se devo rilasciare una licenza in inglese mi fa più comodo andare nel license chooser già impostato in inglese così capisco ragiono già nell'altra lingua ma se devo lavorare sulle risorse che rilasciamo in italiano non ho questa necessità e quindi oggi noi siamo in un webinar a livello nazionale guardiamolo da qui vedete che questo è uno strumento già guidante e questo è quello in uso adesso però poi andremo insieme a vedere anche il chooser beta e vi faccio vedere poi perché è molto utile anche ragionare per voi col chooser beta che vi invito a esplorare già anche adesso dunque che cosa mi consente di fare questo supporto intanto è sulla pagina della creative commons cioè l'organizzazione che rilascia le licenze cosa mi consente di fare mi consente attraverso delle semplicissime domande di capire come scegliere la mia licenza per esempio elementi della licenza nel box a sinistra la tua scelta in questo pannello aggiornerà gli altri pannelli di cui guardate se io voglio consentire che vengano condivisi adattamenti della mia opera e di default la pagina giustamente è posizionata su sì guardate a destra cosa succede quando io scelgo no la licenza è diventata sì sì buy share like non derivative scusatemi quindi non derivative che è il cerchio con l'uguale nel mezzo non è una licenza open sotto la scritta mi dice già anche che non è una licenza free culture ora siamo in Italia quindi su questo vi faccio una notazione le licenze free culture fanno riferimento alla normativa adottata poi in senso ampio anche diciamo in tutto il mondo ma è una normativa che nasce negli Stati Uniti legata al fair use fair use uguale quando riutilizzo non a scopo di lucro e a scopo educational o per diffusione culturale una risorsa allora viene diciamo inteso e quindi poi messo in pratica in caso di cause in tribunale che il riuso è consentito ripeto a scopo educational e non a scopo di lucro tendenzialmente ribadisco anche qui ancora una volta come ogni volta che non sono un legale però anche la nostra normativa sul diritto d'autore consente una serie di deroghe ampie per gli obiettivi educational e quindi educativi e non a scopo di lucro poi se avete dei dubbi quando vi utilizzate risorse che notoriamente mettono un po' più in difficoltà e mi riferisco per esempio a spezzoni di film caricati in rete quindi condividi poi in rete e rilanciati lì ci sono dei punti di attenzione che noi stessi utilizziamo perché magari anche se ci sono tutti i permessi perché come università pubblica non li riusiamo a scopo di lucro li riusiamo in qualità bassa ne usiamo una porzione microscopica eccetera eccetera però poi ci hanno creato dei problemi quando caricati sui canali mainstream come youtube eccetera perché poi alla fine quello che succede sempre stando molto sul fronte pratico del riuso i canali di questo tipo pur con la volontà di rispettare questi riutilizzi concessi anche a termini di legge funzionano con dei robot che vanno a scansire quelli che vengono chiamati i sample dei video caricati e degli audio molto più spesso perché spesso si basano sugli audio se riconoscono i robot quindi dietro le quinte un pezzo di un contenuto che è protetto da copyright bloccano per sicurezza il video a prescindere quindi pur avendo i permessi pur avendo accesso diciamo a tutte quelle che sono le normative che tutelano la cultura la diffusione della cultura in termini di education quindi a livello educativo e non a scopo di lucro a volte si viene bloccato ugualmente quindi in quei casi anche noi facciamo delle verifiche aggiuntive in ogni caso torniamo al nostro license chooser abbiamo detto se io rimango sul sì nel box a sinistra vedete che a destra la licenza è creative commons si si vai ed è una licenza free culture se seleziono il no passo alle opere non derivative se seleziono sì fin tanto che gli altri condividono lo stesso modo compare il simbolo dello share like questa è comunque una licenza open così come da tutte le slide precedenti che abbiamo usato in questa serie di webinar poi c'è un'altra aggiunta permetto che la mia opera venga utilizzata a scopi commerciali questo è un altro pezzo della licenza e va a comporre l'altra parte che è quella del non commercial se io lascio il sì vedete che il simbolo del non commercial non compare se aggiungo un no si aggiunge il simbolo che è del non commercial badate bene che questo è un secondo livello di definizione della licenza perché io quando sono qui posso anche dire no in effetti ricordatevi alcuni esempi che abbiamo fatto di contenuti sensibili non voglio correre il rischio che nessuno adatti questo contenuto perché temo che ne modifichino il senso e se c'è la mia immagine e modificano il senso non voglio che la mia immagine sia collegata a un contenuto derivato che modifichi il senso del mio messaggio e vi ricordate che avevo fatto chi c'era nelle volte precedenti l'esempio di contenuti sensibili come quando per esempio si trattano temi legati alla diversità all'inclusione eccetera ecco se io voglio aggiungere il no nel box a sinistra per rendere la mia risorsa non derivative vedete che la parte nel non commercial è rimasta perché sotto è rimasto il no e però si è cambiato il simbolo in non derivative ed è l'ultimo simbolo che vedete a destra con il cerchio l'uguale in questo caso posso quindi continuare a giocare tra virgolette con la licenza commercial o non commercial ma sopra ho scelto di non permettere adattamenti e la mia licenza rimane non derivative lo stesso se gioco col commercial e non commercial e sopra ho scelto share like allora se noi rimaniamo nell'ambito delle risorse più aperte e questo vale per qualunque risorsa aiuta gli altri ad attribuire a te la tua opera cosa posso fare creare un testo che aiuti questa parte vedete che non l'hanno ancora creata è una parte optional che mi aiuta come autore a strutturare bene il testo col quale gli altri possono citarmi vi consiglio caldamente soprattutto per esplorare le prime volte il license chooser di fare una prova che è del tutto optional aggiuntiva anche nel compilare questa parte perché perché se voi compilate correttamente questa parte poi vi permette di copia incollarla quindi la copiate e la incollate insieme alla vostra risorsa e aiuta gli altri ad attribuire correttamente quando la riusano la cosa indispensabile che è il primo step che vediamo insieme dopodiché se abbiamo tempo e oggi siete interessati possiamo tornare qui entro la fine del webinar e fare la prova insieme adesso preferisco farvi vedere anche l'altro strumento dove vedrete che siete guidati anche per questa parte l'altro license chooser che è in versione ancora data ma che funziona già molto bene l'ultimo pezzo che vedete qui invece a destra è hai una pagina web e voi guardate io sto selezionando se io seleziono proprio con lo shift e la selezione col mouse dalla tastiera questo testo lo copio con ctrl c e lo incollo nella mia opera già così ho tutto ho l'icona corretta ho la dicitura corretta quella legalmente valida ho il link alla licenza che ho scelto sopra perché sopra sono io che ho scelto Creative Commons si si vai se invece scelgo no e no diventa attribuzione non commercial non derivative e guardate qui sotto è cambiato anche questo quindi mi ha già dato tutto quello che mi serve continuo a non essere un legale continuo a essere solo un autore di risorse educative il license chooser mi aiuta a scegliere la licenza giusta e ad avere il testo giusto con il link corretto alla parte legale della licenza ora ho anche l'html pronto da copiare incollare e da inserire questo è con l'icona normale se avete poco spazio ho anche l'icona compatta vedete che qui ho un'icona più piccola questa è l'icona normale che io solitamente uso perché è quella che più chiaramente aiuta gli altri ad utilizzare la mia a riusare la mia risorsa però quello che fa l'icona compatta è immaginatevi con una foto volete condividere una foto è molto bella volete occupare il minore spazio possibile ecco questa icona compatta è più piccola è legalmente valida ha solo il testo senza quelli che vengono chiamati i did cioè i simboli dentro il cerchietto è valida sì è linkata alla stessa licenza che vedete nella scritta sì quindi ha tutto l'icona come immagine e il link senza il link mettere solo l'icona non è sufficiente per aver rilasciato una licenza open perché non c'è il collegamento a quello che è chiamato il legal code cioè il codice legale che rende la licenza valida in termini legali se vi ricordate l'altra volta avevo messo nelle slide un'immagine con tre livelli il legal code che è il livello base cioè la parte legale che rende le licenze valide perché perché si appoggia sul copyright che è la legge e si appoggia sul diritto d'autore in Italia che è la legge sulla quale le licenze si appoggiano appunto per consentire ad altri permessi di riuso poi ho il livello human readable che è quello con le immagini le icone e i quelli che vengono chiamati i did cioè questi simboli che rendono immediata la comprensione di quali livelli di permesso abbiamo e poi c'è il livello machine readable che è quello che sta dentro la licenza e che consente ai motori di ricerca senza che noi facciamo nient'altro di ritrovare le nostre risorse come risorse open ecco basta voi con questa attività avete scelto la vostra licenza avete qui il codice da copiare avete tutto se avete domande fatele nel frattempo io da questo link che vi ho messo comunque anche nelle slide se io da qui senza adesso ritornare in modalità presentazione passo alla slide successiva vedrete che poi avrete la screen capture con il link eccolo qua al license chooser in versione beta che adesso andiamo un attimo a vedere insieme dalla pagina da cui è linkato perché mi interessa che voi lo vediate allora questo al momento non so se l'hanno già sviluppato in italiano perché qui le cose cambiano di giorno in giorno non c'è ancora in italiano quindi se voi non avete familiarità con la lingua inglese il consiglio è di rimanere su quello in italiano scusa sì su quello attualmente già in uso che è in italiano e che avete visto è molto guidante questo è ancora più guidante secondo me ve lo traduco io al volo così che voi capiate come funziona allora selettore di licenze seguite questi step per selezionare la licenza appropriata per il vostro lavoro questo sito non memorizza alcuna informazione quindi voi da qui siete liberi di fare tutte le prove che volete senza che veniate memorizzati quindi anche se tornate qui dovete ripartire da capo allora guardate il primo livello di domanda è sai che sai di che licenza hai bisogno sì nel caso in cui è sì allora tu vai solo al prossimo passaggio e scegli la tua licenza nel caso in cui tu non sia esperto e vuoi avere un supporto per selezionare dici no ho bisogno di un aiuto nel selezionare la licenza e quindi passo al passaggio successivo e mi dice vuoi attribuire vuoi un'attribuzione per il tuo lavoro sì chiunque utilizzando il mio lavoro deve includere un'attribuzione corretta a me vadate bene come vi dicevo l'altra volta siamo in Italia da noi in base al diritto d'autore l'attribuzione è dovuta quindi nel nostro caso stando in Italia e quindi dovendo fare riferimento alla legge italiana chiunque deve includere l'attribuzione a voi perché il diritto d'autore è inalienabile quindi nel nostro caso sarà sempre un sì e vedete che a destra mi sta già comparendo qual è la licenza che devo usare e posso poi andare a vedere in un'altra pagina quali sono gli altri simboli a disposizione per tutte le licenze se uso questo strumento per studiare le licenze ok adesso a noi non serve per studiarle se invece io non ho poniamo che sono negli Stati Uniti mi sono trasferita negli Stati Uniti esiste la possibilità di attribuire una risorsa al pubblico dominio immediatamente mentre la creo cioè non mi interessa essere riconosciuta per la mia risorsa e quindi voglio che immediatamente chiunque possa riusare la risorsa senza neanche attribuirla a me voglio rilasciare quindi subito la licenza con la licenza più con la mia risorsa con la licenza più aperta possibile che è la CC0 eccola qua posso fare così e sono a posto se ho scelto questa licenza e quindi cliccherei su next ora questa è la parte ufficiale della spiegazione spiegazione non ufficiale se io Paola Corti voglio caricare una foto su uno dei repository di fotografie open e voglio che chiunque la riusi qualcuno verrà a lamentarsi da me perché ho caricato una foto in modalità open senza chiedere l'attribuzione lo dubito fortemente ok sto rinunciando io ad un diritto che è inalienabile d'accordo ma se io carico una fotografia e la condiviso con licenza CC0 su un repository è difficile che qualcuno venga a dirmi è illegale mi spiego perché sto nessuno ha interesse a farlo ecco in questo senso nessuno ha interesse a farlo in Italia però il diritto d'autore è inalienabile per cui nel momento in cui io sto raccontando ad altri come caricare risorse open è più corretto che se voi raccontate questa parte ad altri invitandoli a condividere le loro risorse in Italia diciate a questa domanda noi dobbiamo rispondere sì perché questo è formalmente la modalità più corretta io vi ho aggiunto l'altro pezzo perché poi internet appunto abilita come dicevamo all'inizio il copyright che tende a limitare anche in questo caso paradossalmente è più la legge del diritto d'autore che limita dicendo dovete per forza attribuire che non quello che ci consentono di fare i repository online il passaggio successivo è scegliere se voglio consentire ad altri l'utilizzo del mio lavoro commercialmente o meno e qui non cambia niente rispetto alla scelta di licenze che avete già visto se dico sì chiunque può ne usare con la sola attribuzione se dico no la licenza a destra è cambiata ed è diventata non commercial lo rifaccio per chi magari stava guardando a sinistra se a sinistra ho scelto sì la licenza è sì se scelgo no diventa attribution non commercial sì sì buy and see facciamo il passaggio successivo e vedete tra l'altro che qui dove c'era il commercial use per ogni icona anche il software mi aiuta a leggere di che cosa si sta parlando e quali permessi sto dando ad altri ve li leggo rapidamente perché sono solo in inglese questa licenza per la sì si buy richiede che i riutilizzatori diano attribuiscano la risorsa al creatore questo consente ai riutilizzatori di distribuire remixare adattare e costruire su questo materiale in ogni formato con ogni medium anche per obiettivi commerciali l'unica cosa richiesta infatti è si si buy deve essere dato credito a me il creatore come creatore appunto se invece a sinistra scelgono un commercial cambia il testo questa licenza richiede che i riutilizzatori attribuiscano la risorsa al creatore consente il riuso ai riutilizzatori di ridistribuire remixare adattare e costruire sul materiale in ogni medium o formato e fin qui è identica a si si buy l'aggiunta è solo per obiettivi non commerciali e vedete che sotto c'è la spiegazione del nsi solo riutilizzi non commerciali del mio lavoro sono permessi non commercial significa non intesi primariamente per un diretto vantaggio commerciale o per un compenso commerciale qui sta la parte in cui ci sono state delle sentenze che hanno fatto storie ve le riconto più come per raggiungere qualche dettaglio perché le storie ci aiutano a capire come funziona per me sono state molto utili queste per esempio per capire come funzionava un esempio è stata una causa che era stata intentata negli Stati Uniti e che è presente nel racconto anche dei materiali del corso per diventare creative commons educator che noi come Politecnico abbiamo tradotto in italiano qualche anno fa e che se vi interessa poi aggiungiamo tra le risorse disponibili è un pochino più lungo un pochino più complesso ma ha tante informazioni dentro io però l'ho imparato lì che in base a una sentenza degli Stati Uniti c'era stata una causa intentata da un creatore di un contenuto che l'aveva rilasciato con non commercial perché un docente di una scuola aveva riusato la risorsa chiedendo poi di stampare delle copie di quel parziale riuso insieme alle proprie risorse a un negozio che creava PUC che non faceva altro che stampare nella versione cartacea c'è una domanda che chiede se non riesco a contattare il creatore della risorsa come mi comporto ecco adesso rispondiamo questa domanda in un attimo prima finisco questa storia poi rispondo alla domanda allora in questo caso cosa è successo la causa accusava il docente che ha detto io non ho ottenuto un compenso io ho pagato per un servizio che era legato alla parte della trasformazione di una risorsa da digitale a cartacea e il servizio che è stato pagato è questo pagare un servizio esterno che stampasse la parte che serviva a utilizzare in aula la causa è stata dinta perché non era un utilizzo commerciale della risorsa il vantaggio commerciale è stato per compensare i costi della stampa della parte che è stata poi utilizzata in aula a scopo educativo e non con un compenso aggiuntivo quindi questo per darvi un'idea e questo ovviamente nei tribunali americani che funzionano come abbiamo visto la volta scorsa con un'applicazione della legge che è leggermente diversa al nostro sistema però questo è il motivo per cui serve specificare che non commercial significa non primariamente utilizzato questa risorsa non è riusabile primariamente per ottenere un vantaggio commerciale o monetario allora andiamo al passaggio successivo lasciamola non commercial che è un po' più limitativa ma lascia tutti i permessi di riuso a scopo educational non a scopo di lucro di cui siamo interessati noi il passaggio successivo è ah no scusatemi c'era la domanda cui devo rispondere prima grazie dice se non riesco a contattare il creatore della risorsa come mi comporto allora se non riesco a contattare il creatore della risorsa come mi comporto prima di tutto se il creatore della risorsa ha rilasciato la propria risorsa con una licenza non ho motivo di contattarlo se non nel caso in cui voglia fare un utilizzo di quella risorsa diverso da quello per il quale mi sta già dando i permessi attraverso la licenza ok per il resto funziona esattamente nello stesso modo che per le risorse con tutti i diritti riservati se non ho modo di contattare il creatore non ho modo di riutilizzare legalmente la sua risorsa punto se mi metto un po' all'opera cosa che a noi è capitato in diversissimi contesti di fare non è detto che sia semplice però è richiesto perché legalmente la persona non ha dato il permesso di riuso in tutte le forme in tutti i modi a nessuno quindi oppure l'ha dato parzialmente l'uso che vogliamo farne noi è diverso bisogna mettersi all'opera e fare un po' diciamo gli investigatori della rete e darsi da fare per trovare l'autore della risorsa a noi è capitato di farlo in tanti modi contattando la casa editrice se si trattava di una pubblicazione solo cartacea e non trovavamo un indirizzo email affidabile in rete oppure se l'autore era un autore accademico andando a ricercare attraverso i canali dell'università solitamente nei canali dell'università un indirizzo email ufficiale viene reso disponibile se no passavamo dal servizio relazioni pubbliche ricercando attraverso i repository nei quali avevamo trovato le risorse se c'era modo di contattare gli autori attraverso di loro quindi chiedendo un passaggio in più che a volte si è rivelato essere perfettamente funzionante a volte è richiesto più tempo se il tempo è recessivo rispetto agli obiettivi dei nostri progetti nel nostro caso spesso si tratta di produzione di video per i MOOC i Massive Open Online Courses che produciamo e che carichiamo sulla nostra piattaforma Polimia Open Knowledge che è open nel senso che è disponibile a tutti gratuitamente e molti MOOC all'interno della piattaforma sono rilasciati con licenza open ma è uno di quei terreni ibridi dove una login è richiesta per esempio tornando al discorso di prima ecco se noi avevamo un tempo di pubblicazione necessario o stringente per esempio per scadenze di un progetto europeo o perché il docente voleva utilizzare il MOOC per una parte di attività blended all'interno del proprio corso blended cioè mista mescolando quindi tra una parte di attività online e una parte in presenza nel corso o chiedendo agli studenti di prepararsi in modalità flipped classroom quindi utilizzando i materiali open per un'attività mista in cui agli studenti veniva richiesto di frequentare una parte del MOOC come parte integrande del percorso di studi ecco in tutti questi casi in cui c'erano dei motivi diversi per avere una scadenza precisa quello che abbiamo dovuto fare è stato praticamente rilasciare contattare gli autori oppure in mancanza della possibilità di un contatto diretto con gli autori trovare una maniera per cercare una risorsa alternativa quindi forse una risorsa grafica forse una risorsa digitale di altro tipo non potendo usare quella che avevamo scelto perché per noi era perfetta o per il docente era esattamente quello che veniva richiesto abbiamo dovuto soprassedere perché in termini di legge non lo potevamo fare se invece c'è un'altra domanda mi sa arrivo subito se invece contattavamo l'autore poniamo il caso che noi volevamo rilasciare la risorsa e dovevamo integrare una risorsa CC BY SA che sapete non essere integrabile con la CC BY NC SA perché entrambe richiedono uno share like della risorsa derivativa con la stessa licenza ma una alla clausola del non commercial e l'altra no quindi tra loro anche in base alla matrice che abbiamo visto nelle volte scorse non sono compatibili allora noi dovevamo chiedere un permesso all'uno o all'altro per un utilizzo che integrasse tra loro queste due risorse il percorso è lo stesso dovevamo trovare l'autore e però se la risorsa è condivisa con il BY è la licenza stessa che ci richiede di attribuirla correttamente quindi dobbiamo sapere qual è l'autore perché è l'autore stesso che ce l'ha detto quindi è rintracciabile e vedete che in questo le licenze aiutano anche a rintracciare gli autori e lì abbiamo chiesto i permessi che a volte ci sono stati accordati altre volte no di fronte a un no si cerca un'altra risorsa anche se quella era perfetta per noi o per il docente di fronte a un sì invece si ha un permesso specifico quindi la risorsa continua a essere stata rilasciata con quella licenza più chiusa e noi possiamo riusarla conservando copia del permesso specifico che ci è stato rilasciato dall'autore insieme alla documentazione progettuale che ha mille altri permessi per esempio la privacy quando abbiamo i docenti inquadrati e che firmerà anche Anna che è nostra ospite oggi per questi webinar c'è una domanda ok perfetto mi viene da fare un'aggiunta piccola ma che per me è importante perché è ancora un racconto delle nostre pratiche su questo badate bene che è capitato più di una volta già che attraverso le nostre domande per permessi ad hoc dove c'era una licenza dove c'era un'assenza totale di licenza o una licenza più restrittiva l'autore ha scelto a valle delle nostre domande di rilasciare la risorsa con una licenza più permissiva quindi anche in questo si impana facendo e anche in questo attraverso le nostre domande i creatori delle risorse possono fare delle scelte in direzioni più open per esempio sulla scelta dello share like che è effettivamente molto limitante nei fatti in termini di remix perché è molto limitante nell'incrocio con risorse che hanno altre licenze ci siamo trovati in diverse occasioni in cui i creatori della risorsa avevano scelto l'opzione share like perché nel loro obiettivo c'era quello di incentivare il percorso di creazione e di ricondivisione di risorse open perché share like in effetti ha questa radice io attribuisco alla mia risorsa una licenza share like e sto chiedendo ad altri di fare lo stesso e quindi in questo modo incentivo anche i prossimi a rilasciare e un po' le forzo a rilasciare la loro risorsa che riusa la mia ancora una volta con una licenza open ecco se poi però certe licenze sono tra loro incompatibili in effetti io sto ostacolando il riuso a tutti gli effetti e allora in certi casi la risorsa è stata ripubblicata con una licenza più permissiva si può fare sì cioè risalire nell'ordine delle libertà che le licenze consentono andando verso un maggior livello di libertà si può fare chi aveva riutilizzato in precedenza con una licenza più restrittiva avrà già dovuto fare i conti con quella licenza più restrittiva e non si può andare a dire a qualcuno guarda che adesso abbiamo cambiato la licenza lo scoprirà e magari farà un uso più estensivo di quella risorsa ma i futuri riutilizzatori possono beneficiare di permessi più ampi posso invece fare il percorso opposto ho rilasciato una licenza con una con un scusatemi una risorsa con una licenza un po' più restrittiva e con una licenza più ampia poniamo che l'ho rilasciata con CC BY e a un certo punto decido che voglio rilasciare con CC BY ESA lo posso fare diciamo che in teoria lo posso anche fare perché chi mi impedisce di caricarla in rete con quella licenza ma tutti gli utilizzatori che avevano riusato la licenza prima di quella data avevano effettivamente avuto da me il permesso di riusarla con la licenza più ampia ed è un permesso legale che io rilascio senza scadenza quindi chiunque ha riusato una mia risorsa prima che io stringessi la licenza con la quale l'ho rilasciata di fatto è legalmente autorizzato da me a usarla in modo più ampio quindi quando fate la scelta della licenza è bene che facciate una scelta consapevole da questo punto di vista noi stessi quando nel 2016 abbiamo iniziato ad utilizzare le licenze in modo più ampio e più esteso abbiamo fatto questo ragionamento che ragionamento abbiamo fatto è impariamo da chi le ha usate prima di noi le altre università che magari hanno fatto dei ragionamenti più estesi che riusano le licenze da più tempo come hanno fatto come si sono mosse che livello di restrizione hanno dato cominciamo a partire da lì e poi se ci sentiamo a nostro agio se vediamo che funziona laddove vediamo che non abbiamo restrizioni di sorta usiamo di volta in volta licenze più ampie ed è così che abbiamo fatto e le abbiamo usate più ampie solo dove potevamo avere la garanzia dai docenti del riuso da parte loro per primi e quindi da parte nostra di licenze ampie così da essere certi di rispettare la volontà dei creatori è un lavoro quindi in fieri è un lavoro come vi ho detto l'altra volta che è sempre sempre contestuale ogni progetto e ogni risorsa richiede un po' un ragionamento e questi strumenti sono molto utili perché ogni volta anche se conoscete già le licenze ma anche per noi che le conosciamo già ci aiutano nel percorso come vedete andare a esplorare quali cose potremmo magari non aver considerato e di volta in volta ci ripensiamo finiamo anche di vedere il license chooser in questa direzione l'ultima scelta è quella come vedete del non derivativo anche qui sto chiedendo voglio che gli altri possano rimixare adattare o costruire sul mio lavoro se lascio yes rimango nell'ambito delle open educational resources se scelgo no la risorsa diventa non derivativa cosa sto dicendo che si può fare con il non derivativo sto dicendo che gli altri possono riusare il mio lavoro in una forma non adattata ma io comunque sto consentendo loro di riusarla sto dicendo che la licenza è di attribuzione del credito a me come creatore che possono riusare una copia e possono ridistribuire il materiale con ogni medium o con il formato che ho scelto io quindi non possono cambiare il formato non possono riadattarla in alcuna forma e in questo caso visto che avevo scelto nel passaggio precedente non commercial non possono neanche riusarla a scopo commerciale ecco dopodiché se io torno su sì perché stiamo parlando di risorse open quindi mi interessa fare il percorso con la risorsa open abbiamo detto che è con ogni medium quindi confermo che la licenza è appropriata e perché perché io ho le cose che devo controllare in fondo sono ho l'autorità per licenziare il lavoro quindi per esempio l'ho fatta io le slide ho citato correttamente gli altri e le licenze degli altri sono compatibili oppure ho messo except where otherwise noted e in italiano lo trovate nella prima slide delle mie delle mie slide di oggi per esempio eccetto dove altrimenti indicato perché se io riuso una risorsa di qualcun altro in quel caso devo dire in quel punto con che licenza l'ha rilasciata l'autore quindi io dico che sì ho l'autorità di rilasciare il mio lavoro dopo che ho fatto tutti i controlli e qui mi aiuta a controllare che ho letto e ho compreso i termini della licenza per esempio che è senza scadenza quindi è una scelta importante quella che sto fando e che ho compreso che i termini della licenza Creative Commons non sono revocabili e questo è il motivo per cui vi dicevo posso passare da un livello di libertà inferiore di permessi inferiori a un livello di permessi superiori ma non il viceversa perché non posso revocare il permesso a chi ha usato la mia licenza con un ampio permesso col quale l'avrò rilasciata prima dopodiché io ho compreso tutto e quindi qui mi guida in quelli che sono i dettagli per l'attribuzione quindi devo mettere un titolo al mio lavoro mettiamo questo usare vogliare magari lo scrivo in modo corretto usare i vari posso mettere il mio nome Paola Porti come creatore del lavoro e se ho bisogno di capirci di più o dei dubbi vado a vedere sulla i e mi dice posso anche includere altri che possono ricevere un'attribuzione quindi posso aggiungere altri autori quindi vedete che possiamo essere in tanti e aver creato una risorsa metto il link a dove la risorsa viene caricata quindi prima devo avere il link se non l'ho ancora fatto mi fermo qui e i dettagli di attribuzione li completo quando ho il link perché perché se io voglio avere questo statement per l'attribuzione corretta cioè questo scritto poniamo che io qui metta un indirizzo a caso in questo momento metta il link a il mio Open Knowledge giusto per fare la prova metto il link appo di mio Open Knowledge perché carico questa risorsa su un MOOC allora vedete che io su questa risorsa se io clicco adesso allora intanto qui a destra vi dico che mi sta componendo la scritta da copiare e incollare per avere la mia attribuzione completa se voglio se io ho una pagina dove voglio che le persone vadano per contattarmi e questo risponde anche a una vostra domanda precedente come aiuto gli altri ad attribuire come come gli autori aiutano gli altri ad attribuire io qui posso non lo so collegare la mia pagina sul sito del Politecnico posso collegare la mia pagina sul sito di LinkedIn posso collegare la pagina del mio blog personale se io qui metto il mio link al mio profilo questo link comparirà sopra al mio nome qui quindi anche il mio nome diventerà un link che porta alla mia pagina web o alla pagina web dove voglio che le persone vadano per chiedermi eventuali permessi o per contattarmi quindi anche questo è un buon modo che chi pratica Open Education utilizza per essere contattato dopodiché io devo semplicemente copiare questa scritta e la posso copiare vedete che qui adesso compare copied se mi serve un'abbreviazione la uso breve se no vedete che qui mi dice tutto il nome completo perché il nome completo per chi riusa poco è un aiuto si si va e insì per noi che adesso ne stiamo parlando già da tre incontri magari è più è già più semplice ma per chi non ne sa nulla e voglio che sia aiutato anche attraverso la scritta questa scritta aiuta a dire ok devo attribuire e non posso più usare scopi commerciali dopodiché anche qui ho la possibilità di copiare e incollare l'HTML oppure posso scaricare i metadati e a seconda dell'uso che faccio della risorsa educativa o se la carico su un learning management system anche questo mi aiuta posso anche aggiungerla come testo e anche questo vale su un testo stampato perché io posso caricare una versione digitale del testo ma anche copiare questa dicitura perché io posso scrivere un articolo che entra in una pubblicazione e di questa pubblicazione viene rilasciata una versione in digitale ma poi viene anche stampata e tenuta nelle biblioteche se io voglio che le persone sappiano che il mio capitolo è riusabile questa è la scritta che posso aggiungere a un lavoro scritto o anche per dire in fondo a un video se non posso mettere la scritta come invece si può fare in youtube nella descrizione domanda come comportarsi se le risorse sono anonime se le risorse sono anonime ricadiamo nel caso del pubblico dominio l'autore non mi sta mettendo nelle condizioni di citarlo quindi io non posso aggiungere il nome dell'autore quello che facciamo noi in questi casi a noi capita spesso con le immagini immaginatevi le volte in cui mettiamo uno sfondo con un'immagine significativa se c'è un docente che sta trattando un argomento un esempio a caso non so l'energia idrica l'energia elettrica che si ricava dall'incanalare l'acqua c'è una foto di una bellissima diga però non abbiamo l'autore noi solitamente aggiungiamo il link la risorsa dalla quale abbiamo il hyperlink alla pagina dove abbiamo trovato la risorsa in modo tale che si sappia dove l'autore l'ha caricata questo è il massimo che possiamo fare ribadisco il caso che citavo prima se io Paola Corti italiana quindi sono in un contesto in cui la legge del diritto d'autore non mi lascia la scelta dell'attribuzione o meno per default io dovrei come dire rispettare l'attribuzione quindi le mie opere devono essere rilasciate con l'esplicitazione del nome e cognome se io però e la rete me lo consente carico una foto sui repository di foto o anche su archive in modo anonimo e lo strumento mi consente di farlo sono anonima come è anonimo un creatore di un'opera negli Stati Uniti quindi sono io che sto di fatto esprimendo la mia esplicita volontà di non essere riconoscibile o di non essere associata con il mio nome e cognome a quella che è l'opera che ho caricato io quindi non è possibile di fatto è se l'autore è anonimo io da lì non posso posso aggiungere il link questo sì non so se ho risposto alla domanda ma questa è una risposta che vale anche per tutti i repository di immagini open che possiamo vedere insieme allora fatemi chiudere un attimo un paio di queste perché voglio farvi vedere un sacco di cose oggi quindi adesso ovviamente mi sta ricaricando le slide quindi torniamo in modalità presentazione se avete domande andate avanti così vi prego e interrompetemi man mano ok abbiamo visto il license chooser non ho capito perché non mi fai ti fammi andare avanti ok quindi torniamo un attimo in modo critico al concetto di creare oggi parliamo di creare OI in che termini parliamo di creare ricordatevi sempre che creare è la parte che solo voi sapete di poter fare o che volete fare o che avete in mente per il vostro corso ma nel creare OI ci interessa tantissimo pensare a tutte quelle che sono le altre attività che noi possiamo fare a partire dalle risorse di altri sempre con l'ottica di non reinventare niente e di spendere il nostro expertise e la nostra quantità di energie nel modo più sostenibile possibile costruendo anche sulle spalle degli altri quindi fa parte del creare anche l'attività di localizzare una risorsa che avete trovato con licenza opportune condivisa da altri in funzione di dove siete per esempio ho una risorsa che è legata al contesto in cui abito io a me è capitato di recente di scrivere un capitolo che a breve verrà pubblicato di un libro su un episodio di un podcast che parte da una foto scritto insieme a una docente che è greca e che lavora in inghilterra ma la foto è una foto della valtellina io sono un amante della montagna sono nata in montagna mentre facevo questa camminata mi è venuto in mente il concetto di questa metafora che riguardava il contesto dell'università siamo partiti da una mia foto che io ho condiviso in un repository open perché fosse riusabile in sé però questa foto della valtellina che cosa può dire a un riutilizzatore che lavora a Cape Town e che quindi è in Sudafrica e che ha un contesto completamente diverso ancora meglio che cosa dice a chi magari è in mezzo al deserto in una località in Sahara o in mezzo ai ghiacci dell'Alaska o in Thailandia è molto meglio se quello che viene riutilizzato in questo caso di un capitolo che descrive l'università attraverso una metafora e raccontando quindi come attraverso un'immagine la metafora può essere narrata spostare la metafora sul contesto locale nel quale si descrive l'università e quindi è un altro tipo di foto che può parlare a quell'utenza è una foto contestualizzata in uno spazio locale in cui quindi anche il capitolo poi trasforma la valle e la montagna in la spiaggia e le colline le dune di sabbia piuttosto che nella strada che collega la spiaggia al centro abitato più vicino mi spiego se io rilascio questo capitolo e le immagini adesso collegate in modalità si si vai chi ha bisogno solo di adattare la foto magari aggiungendo degli elementi grafici magari colorandola magari chiedendo agli studenti di animarla fa un altro tipo di lavoro e usa la foto ma chi ha bisogno di radicalmente cambiare la foto deve adattare il testo di questo episodio di podcast alla propria e quindi lo localizza e io con la mia licenza che ho creato una cosa sto dicendo a qualcun altro creala anche tu adattala al tuo contesto al tuo al contesto storico anche alle normative di cui vuoi riferirti ai limiti che vengono consentiti nel riusare le risorse nel contesto in cui sei tu ci sono altre forme di adattamento magari alle metodologie didattiche serve rendere questa risorsa interattiva e la mia magari non lo era perché per come è nata non lo era ma invece aggiungere un esercizio descritto perché gli studenti la modifichino aggiungi un pezzo adatta poi come risultato finale questa risorsa o lo faccio io stessa in un contesto in cui ha senso in un corso che sto tenendo di chiedere di adattare quella risorsa e posso anche aggiungere materiali creati da altre persone sempre in base ai permessi o posso chiedere ai miei studenti di crearne di aggiungerne sempre coinvolgendo gli studenti come vedete è l'ultimo passaggio in modo che diventino coautori anche del processo creativo in sé ecco in questo caso vi faccio vedere un esempio reale del quale sono tra virgolette esperta perché l'ho vissuto per cui se avete domande mi viene da presentarvi questo che non nasce da un'idea mia ma un'idea in cui sono stata coinvolta perché lo conosco bene e conosco anche dietro dei quinte che adesso vi vado a raccontare un po' e che è la storia di cui magari qualcuno di voi sa già ma che è di creazione di un libro illustrato creato in modo collaborativo da me insieme ad altri che in giro per il mondo ci hanno lavorato e di cui adesso vi faccio vedere un po' di cose che è stato rilasciato con una licenza open in questo caso CC BY NC e che è stato in sé una pratica open un racconto che vi faccio adesso il più brevemente possibile di una collaborazione tra persone in giro per il mondo con profili diversi in questo caso vedete che ci sono persone che abitano in Sudafrica in Francia in Canada alcuni in Inghilterra qualcuno in Australia io in Africa e qualcuno in Grecia durante la pandemia è stato tutto sviluppato durante la pandemia non ci siamo mai visti io alcune di queste persone non le ho mai neanche incontrate di persona né prima né dopo chissà speriamo ci sono persone che lavorano a livello universitario come docenti c'è un illustratore Brian Matters che è eccezionale nel fare storytelling che è stato invitato con un piccolo budget ed è l'unico budget che c'era per un fellowship project ed è stato assegnato di comune accordo tra tutti noi autori a chi ci poteva dare un'expertise specifico a lavorare sul fronte nel quale eravamo più deboli cioè quello grafico perché nessuno di noi disegna lui sì e c'è anche stato uno studente coinvolto che ci ha dato una grossa mano a sviluppare alcuni dei tool cosa è avvenuto in questo caso lo scopo era appunto scrivere un picture book un libro illustrato che raccontasse dei valori dell'open education quindi in questo caso era riferito al mondo dell'open education i protagonisti sono nati attraverso una consultazione che è stata fatta a livello è stata aperta a livello mondiale attraverso tutti i canali che l'open education consente di utilizzare e sono stati scelti degli animali individuati dai partecipanti questo survey come secondo loro rappresentativi dell'approccio open e secondo loro rappresentativi dell'approccio dell'antagonista quindi all'open ci interessava quindi chiedere come le persone vedevano gli animali in confronto a questo all'apertura al mondo open e a ciò che lo ostacola e la scelta che abbiamo fatto a monte prima ancora di avere i risultati era di scegliere gli animali che comparivano in entrambe le liste che quindi nel picture book avrebbero poi potuto essere percepiti in modi diversi proprio per lavorare sulla diversità sull'equità e sull'inclusione anche attraverso i protagonisti abbiamo chiesto anche di dirci quali erano i punti di forza e le vulnerabilità percepite di questi animali e abbiamo scelto quelli che rappresentavano meglio la coniosità la generosità e la fierezza e abbiamo raccolto 95 risposte a livello globale in una survey che è rimasta aperta forse solo una settimana diciamo quindi l'abbiamo utilizzata anche attraverso chi di noi aveva occasione di fare workshop in presenza no in presenza no in quel momento erano solo online perché eravamo in lockdown quindi workshop online o partecipazione a conferenze virtuali attività in locale sempre per accogliere feedback cosa abbiamo fatto poi abbiamo scelto dai repository del Rijksmuseum che offre tutte tutte le immagini e le fotografie delle opere in esso raccolte è un museo bellissimo che c'è ad Amsterdam con delle aree intere dedicate a Rembrandt che se non avete mai visitato di persona vi consiglio di andare a vedere e se vi interessa per curiosità poi c'è anche la storia del come mai e del quando hanno deciso di condividere tutte le fotografie delle proprie opere in modalità open online con licenza Creative Commons non zero quindi chiunque le può riusare citare sono caricate sul repository del museo con licenza CC0 ad altissimo livello di risoluzione e navigabili badate bene per una cosa che per me è bellissima pensando di riusi in ambito artistico anche per pantone di colore cioè io posso entrare nel motore di ricerca del Rijksmuseum e dire restituiscimi tutte le immagini e tutti gli oggetti che hanno il grigio chiaro con questa codifica RGB ed è bellissima questa cosa se pensate ai riusi artistici noi ci siamo basati su questo perché volevamo che nel nostro picture book ci fossero delle immagini riusate con licenza open e quindi le abbiamo scelte dai repository del Rijksmuseum e poi il testo in sé essendo un testo dedicato ai bambini e nell'ottica dell'essere coerenti con le indicazioni di progetto le linee guida della creazione dei picture book ha meno parole possibili e con un vocabolario considerato da esperti che abbiamo consultato nella versione originale inglese coerente con le capacità di un bambino in prima seconda elementare diciamo per il primo secondo anno della scuola primaria riferendoci alla scuola italiana e poi scalato in base ai vari livelli esistenti nei vari posti del mondo su questo però le 154 parole della versione originale si sono trasformate in più parole o meno parole in base alla lingua di localizzazione di questo picture book e si sono aggiunte un sacco di altre parole che abbiamo scritto per raccontare la storia in cinque blog post nel creare il report per il fellowship che aveva finanziato il progetto e che poi noi abbiamo scelto di diciamo assegnare solo all'esperto di illustrazioni ci sono state 15 illustrazioni di base più tutte le pose e le emozioni espresse dai volti dei personaggi che sono scaricabili in modalità open anche quelli ci sono stati sei mesi di lavoro collaborativo tutto a distanza in giro per il mondo con vi lascio immaginare l'avventura del trovare una timezone che andasse bene per i nostri incontri online e 31 traduzioni ora prima di passare alla slide vi faccio vedere due cose di questo prima cosa che mi interessa farvi vedere e magari che voi abbiate anche il link alla pagina del Rijksmuseum andate nel sito del Rijksmuseum e andate a vedere la parte di studio che adesso vi faccio vedere anche da qua anzi andate anche in education ma voi andate nella collection ecco qua io sono andata in Rijksstudio da qui è dove voi potete esplorare da parte crearvi il vostro account se vi interessa e farvi le vostre e crearvi le vostre immagini per voi per ogni immagine andiamo su una di quelle di Vermeer che magari possono essere già considerate anche molto belle e molto note io sto aprendo questa immagine della della Mixed di Vermeer e questa immagine io la posso subito ritagliare scaricare posso selezionare un colore e farmi estrarre quali altre immagini ci sono con questa scala di colore uno di questi la posso posso andare a vedere posso scaricare l'immagine in formati diversi in altissima qualità e riutilizzarla con licenza si si zero pensate alle infinite possibilità che ci sta offrendo con delle opere d'arte meravigliose sempre per il dietro le quinte di questo picture book invece vi faccio vedere fate chiudere un attimo allora questo lenzuolo di excel che vi sto facendo vedere adesso guardate guardate i caratteri che vedete nella riga 5 lo so che li vedete in piccolo ma è un inizio e guardate anche qui guardate la bellezza anche solo di certe altre lingue tipo il telegu tipo l'indi il cinese mandarino allora noi abbiamo creato per questo libro e a me affascina tantissimo vedere i caratteri delle altre lingue di cui non sono nulla ma è la parte più bella abbiamo creato 33 versioni possibili in 33 lingue rimango un attimo qui perché questa è la pagina che mi piace di qui abbiate pazienza la vado guardando facendo vedere da vicino la bellezza del telegu per chi di voi ne è affascinato come me o anche del dell'indi ecco qua la lascio qui un attimo così ci godiamo questa cosa guardandola io per prima anche solo per la bellezza dei caratteri allora la bellezza di questo progetto è stato che dopo aver creato il libro abbiamo lanciato una richiesta online aperta a chiunque se volete fare advocacy sulla open education con anche i ragazzini perché la storia in sé del libro che non è secondaria è una storia di collaborazione alla fine tra gli animali che si aiutano tra loro per superare delle difficoltà e termina in fiere non vi dico tutto perché vi invito a guardarlo ve lo potete scaricare vi ho messo il link non so se vi ho messo il link no sì è dentro nelle slide vi ho messo il link anche alla versione scaricabile del libro dicevo abbiamo fatto in modo che ci fossero anche dei laboratori sui quali più lingue insieme hanno collaborato perché un'altra delle attività è chissà se ci sono delle scuole dove si parla più di una lingua chissà se questo può essere uno strumento di inclusione per esempio anche in una scuola italiana quando arrivano bambini dall'estero in diverse condizioni e un libro illustrato può essere uno strumento per far vedere agli altri bambini con quale lingue si lavora per cui perché no provare a lavorarci insieme e ci sono diversi progetti che poi noi stiamo salvando man mano quando ci tornano in cui si racconta come questo come qualunque altro progetto open può essere utilizzato come strumento per delle pratiche d'aula che lo adattino ai bisogni dell'utenza specifica di questo lavoro di questo di questo libro abbiamo condiviso a più fasi anche quello che è lo storyboard perché guardate qua ve lo faccio vedere giusto molto rapidamente c'erano anche le nostre discussioni sulla licenza il mio rompere le scatole perché la licenza fosse ancora più ampia e del mettere all'inizio delle descrizioni che aiutassero ad adattarlo a seguire e poi un po' di racconto del come abbiamo ragionato sulle immagini come abbiamo scritto i testi tutti i commenti nostri collaborativi ma anche il coinvolgimento di altri Francisco Iniesto per esempio è un ricercatore che abbiamo coinvolto giusto per avere da lui un feedback su altri aspetti del ti piace e non ti piace o quando abbiamo ragionato sul creare delle immagini a specchio perché sembravano più inclusive e cambiavano la prospettiva da una pagina all'altra perché i cervelli ragionano in forme diverse chi è abituato a leggere da destra a sinistra legge anche le immagini da destra a sinistra e quindi invece chi è abituato a leggere da sinistra a destra aveva bisogno di immagini a volte ribaltate quindi abbiamo lavorato anche su questo abbiamo ragionato vedete su sketch molto semplici anche per riscrivere i testi nella versione originale in modi più semplici e poi abbiamo ragionato tanto anche sui colori da utilizzare come strumenti per coinvolgere nella lettura nei momenti più critici più spaventosi vedete riconoscerete già dei pezzi di immagine la barca è fatta con dei pezzi di tazze e tutto invece anche lo sfondo del fiume le onde sono tutte immagini che tanti di voi riconosceranno perché sono condivise a livello open e con una certa notorietà l'abbiamo ragionato vedete questa è una screen capture di quando avevamo lo studente che ci aiutava a strutturare la versione dell'impaginato finale perché qui ci ha aiutato lo studente e abbiamo ragionato sugli sguardi dove volevamo lavorare noi per aiutare la caduta dello sguardo in modalità diverse insomma questo è un po' il dietro le quinte che poi non si vede in un libro che ha 15 schermate però mi interessava condividerlo con voi perché mi interessa condividere con voi di questo soprattutto l'esperienza la pratica che c'è stata dietro e il livello di discussione che anche anche in sé può essere un modo per voi in futuro di condividere il vostro approccio open perché altri potrebbero ragionare sul risultato finale che voi condividete infiocchettato e quella è la risorsa open anche nel nostro caso il libro è pubblicato che ha avuto appunto una sua fortuna perché è risultato utile ma tutto il dietro le quinte tutte le versioni finali del libro che abbiamo creato tutte le modalità di riuso del libro e anche tutte queste parti è tutto stato condiviso perché condividere il tutto ci ha permesso di condividere con altri anche l'approccio che abbiamo utilizzato la pratica dietro le quinte e i vantaggi che stanno nel ricreare dopodiché anche noi per primi e torno in modalità presentazione abbiamo lavorato tanto su questa tabella che è quella che avete già visto e che ci doveva far confrontare di volta in volta sul riuso abbiamo fatto delle scelte di fondo che in questo caso specifico ci hanno facilitato perché scegliere le immagini del Rijksmuseum rilasciate con CC0 ci ha reso la vita facile però noi per scelta poi le abbiamo citate tutte singolarmente con il link e con la licenza alla fine delle slide del libro rilasciato in altri casi invece abbiamo chiesto dei permessi e dove ci sono stati concessi abbiamo usato dove ci sono stati negati e abbiamo trovato alternative però la pratica in sé serve proprio a darvi un'idea di come il mondo della open education si muova su dei canali di collaborazione di volontà esplicita intenzionale attiva di condividere i saperi e tutto il resto sono ostacoli lungo il percorso cui si cercano soluzioni collaborative chiaramente con l'aumentare delle risorse open con l'aumentare della condivisione di pratiche open la vita di tutti coloro che vogliono riusare diventa più semplice perché ci sono più punti di riferimento cosa rimane complesso la scelta la scelta delle risorse di qualità il trovarle senza spenderci troppo tempo dove ancora la tecnologia ci può aiutare tanto soprattutto nella scansione della rete a caccia delle risorse che ci interessano perché quello chiede ancora tanto tempo i repositori di cui abbiamo parlato la volta scorsa ci chiedono di andare a esplorare tanto però questa è la parte nella quale dobbiamo ancora esplorare un po' e su questo io mi fermerei e darei la parola invece alla nostra Anna ti invito adesso a condividere il proprio schermo e aprire il microfono Anna spero che tu sia riuscita ad arrivare a casa sì da un po' non ti vedo non mi vedi? no sono io che ancora non ti vedo e a breve evidentemente ti vedrò spero che mi vediate comunque ti vedono ti vedono gli altri quindi è solo un problema che ho io e quindi parti pure con la condivisione del tuo schermo certo no io prima di condividere volevo ringraziarti perché questo lavoro è bellissimo tu prima parlavi appunto delle lingue mettevi in evidenza questa bellezza dello scrivere con caratteri che non sono i nostri latini io insegno un CPA che è una scuola per adulti e in particolare stranieri e quindi l'idea che potrò usare questo libro anche per i miei ragazzi appunto che non sono abili magari con l'italiano però nella loro lingua loro quando vedono un libro scritto nella loro lingua si illuminano davvero perché è una cosa bella è una cosa che non si aspettano è veramente una cosa che sto pensando a possibili utilizzi il multilinguismo comunque è una cosa che apre un mondo secondo me a prescindere dal fatto se nella scuola ci sono o non ci sono in classe bambini strani cosa che oggi è praticamente impossibile che non ci siano però questo li mette anche in una una situazione diversa il fatto di poter leggere nella loro lingua farlo sentire anche ai compagni è un'esperienza molto bella che consiglio di fare a tutti quanti i colleghi se se ci sono immagino ci siano colleghi presenti oggi allora io mi rivolgo sempre al io vabbè parlo sempre agli insegnanti perché è una mia io sono un'insegnante e quello che sono molto felice di essere qua ho aperito alla rete per sulle di open education italia perché da sempre sono un po' appassionata diciamo dei temi del di tutto ciò che è il mondo libero e parlando con con Paola appunto ci siamo confrontati è bellissimo creare risorse educative aperte forse un valore aggiunto è quello di crearle con risorse open source io dico proviamoci non è assolutamente obbligatorio perché mi piace molto l'approccio di questo di questo webinar di questi appuntamenti che sono realmente open cioè non non escludono nulla e tutte le tutti i nostri prodotti purché appunto siano aperti condivisi e che possano essere distribuiti vanno benissimo ma se la mia idea è se possibile quando possibile provare anche a crearli con software che siano open source è un valore aggiunto niente di più qua era la mia presentazione ma lo mi sono già presentato vabbè faccio parte anche dell'equipe formativa territoriale del Piemonte che l'equipe sono degli insegnanti che sono stati selezionati dal ministero per diffondere diciamo così la cultura digitale all'interno delle scuole supporto i colleghi nelle loro avventure con il digitale e io le risorse libere sono proprio uno degli aspetti che amo del digitale perché 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 ci sono tanti perché mi piace condividere perché sono da sempre convinta che soltanto insieme si possa crescere si possa andare avanti si possa evolvere contaminare in modo positivo condividendo faccio parte di alcune community ho sempre fatto esperienza di collaborazione con gli altri perché davvero la mia idea più la tua idea è una nuova idea che è più ricca sicuramente della mia che se ne sta da sola mi piace sperimentare per questo il mondo dell'open source mi affascina non sono la persona che dice che deve essere tutto assolutamente open altrimenti non va bene non è questa la mia filosofia mi piace però sperimentare provo di tutto provo gli ambienti Linux provo Windows provo Apple perché secondo me più si sa e meglio è la curiosità mi guida diciamo e poi per imparare appunto sono convinta che bisogna essere disponibile al confronto perché non ci si può trincerare dentro un'unica un'unica filosofia altrimenti si creano delle barriere barriere che cerco sempre di abbattere a proposito di barriere le risorse open secondo me ne abbattono di barriere perché sono inclusive sono inclusive nella misura in cui mi sono messa qua anche due appunti a due goals dell'agenda 2030 quando noi parliamo di ridurre le disuguaglianze significa assicurare pari opportunità e ridurre le disuguaglianze nei risultati io faccio un esempio sempre forse banale i miei ragazzi che sono immigrati sono stranieri magari non hanno le possibilità economiche di comprarsi le licenze di software proprietari se ho un'alternativa e mi ricordo come Fabio nel primo incontro che abbiamo fatto in questa serie di webinar lo ha già detto lui c'è sempre un'alternativa open tutto quello che appartiene al mondo al software proprietario cioè con una licenza che devo pagare c'è sempre qualcuno che lo sviluppa a livello open source spesso sono le risorse open source che sono così vengono acquistate dalle grandi aziende e poi vengono appunto vendute e quindi ma c'è sempre comunque una un'alternativa in questo senso sono inclusive perché spesso non sempre open source open non significa gratis lo sappiamo ma spesso sono anche gratuito comunque hanno una versione che lascia la possibilità di utilizzo appunto a tutti io mi piacciono perché sono libera io sono un spirito libero quando sono costretta mi sento un po' così soffocare e sono aperte il fatto che le risorse siano open non appunto non vuol dire che siano gratuite è diverso da free forse lo sto dicendo ad un pubblico che è esperto e quindi è già chiaro questo la risorsa open è una risorsa che ha il codice aperto per cui se io fossi in grado non lo sono però fossi un ingegnere fossi un informatico potrei migliorare quella risorsa potrei dare il mio contributo magari il mio contributo è più semplice posso tradurre una risorsa che è online proprio perché il codice aperto io ho la possibilità di andare con ovviamente sempre nel rispetto dell'idea della proprietà intellettuale di colui che ha sviluppato il software ho la possibilità comunque di migliorarlo e di andare a portare il mio contributo se sono capace se posso se voglio sono sfidanti sfidanti perché non sono le solite e questo è un modo anche per come dire dicevo prima per imparare per crescere per essere così per essere sempre un attimino stuzzicati perché secondo me cioè quando adagiarsi troppo non è mai troppo positivo ecco l'istruzione di qualità è l'istruzione che appunto è quella che noi dobbiamo perseguire il fatto di aprirsi a nuovi orizzonti avere anche un punto di vista diverso non può che migliorare il nostro modo di insegnare lassù in alto ho messo quell'immagine che anche io ho il dubbio se è aperta o non aperta ne discuterò dopo con Paola perché vedevo prima in chat alcuni interventi di immagini o colleghe che nelle ricerche non è sempre così ben chiaro cos'è che è rilasciato con le create in commos oppure no comunque penso sia ho letto che pubblico dominio quindi mi sono permessa di inserirla questa è l'immagine dello Universal Design for Learning la sintesi dei principi dell'UGL che è un framework che lavora per offrire appunto opportunità a tutti per essere per produrre materiali ma anche ambienti e insegnamento inclusivo perché questo è un aspetto importante e con le risorse open secondo me qualcosa ci azzecca all'Universa Design for Learning una cosa importante secondo me che è da tenere presente perché come come insegnante dell'equip ho l'occasione di fare corsi di formazione di incontrare molti molti docenti e la cosa che ma anche io in prima persona l'ho sempre detto il digitale non deve complicare perché se complica la vita se faccio prima fare un'attività con un foglio di carta va bene così va benissimo non utilizzare il digitale e spesso c'è chi obietta che appunto l'open source sia un po' ostico magari sia un po' di nicchia un po' difficile però in realtà questo col passare del tempo è cambiato forse all'inizio un po' di tempo fa sì poteva essere poteva essere questa questa obiezione io sono convinta che ci siano online risorse semplici immediate di cui andrò a parlarvi tra pochissimo che non complicano la vita agli insegnanti ma anche agli utenti in generale non spaventano perché se poi ci spaventiamo non funzionano ci mettono i bastoni fra le ruote e le abbandoniamo subito e anche non ostacolano anche i nostri i nostri allievi i nostri allievi i nostri allunni io ultimamente mi sto concentrando su questa che sono le risorse che propongo spesso anche appunto ai colleghi sono tutti ambienti online che possiamo trovare sono tutti nel web e hanno ciascuno un po' la propria caratteristica la digitale poi vi faccio vedere apro le finestre ma intanto solo per introdurre questi ambienti che possiamo appunto usare nella didattica non solo la digitale è un ambiente francese sono molto molto la Francia è molto spinge molto sull'aspetto delle risorse libere ma proprio a livello centrale ecco è proprio una cultura diversa per quanto riguarda il software libero da utilizzare in ambito educativo questa è appunto la digitale è un portale con tantissimi tool tantissime risorse anche molto basiche semplici da utilizzare al volo Franasoft invece esiste da più tempo è una vera e propria azienda che promuove alcuni tool che vogliono praticamente un po' in contrasto con tutto quello che è il mondo di Google dove io non ho problemi a dire che ci vivo nel mondo di Google perché con tutti gli account che ho sulle varie workspace ci faccio i conti tutti i giorni quindi non sto condannando nessuno ma semplicemente Franasoft dice ok queste sono le multinazionali che ci propongono questi strumenti noi creiamo uno strumento alternativo libero anche perché non richiedono account non richiedono autenticazione sono con una filosofia diversa alle spalle poi l'UMI invece è un applicativo che è interessante perché mi permette di utilizzare dei file con un software che si chiama H5P che è un software elaborato dall'MIT come anche Scratch e altri applicativi che conosciamo che magari utilizziamo nelle nostre lezioni e questo H5P però a me ha sempre dato dei problemi lo guardavo e dice Massimo adesso come faccio a farlo io ad elaborare queste slide interattive o questo gioco o questo si usa molto nella gamification e con l'UMI ho risolto questo problema perché è un software che scaricato sul computer mi permette di lavorare anche in locale e poi elaborare questi file e poi ci sono applicazioni e software sparsi che sono ovunque nel web io sono appunto da amica delle risorse open ogni volta che trovo qualcosa mi metto il tag me lo metto da parte poi ci torno lo provo e così ci provo ad utilizzarlo se siete d'accordo io non so Paola posso far vedere magari queste pagine web di cui ho parlato sì certo io intanto ho mandato il link nella chat a ciascuno di quelli che hai citato in modo tale che hanno il link diretto se vuoi brevemente far vedere qualcosa Anna sicuramente hai faccio vedere la digitale aspetta sono ok ora aspetta perché non mi fai uscire ecco anche qua vabbè qua ho gli altri allora questi sono questi strumenti che dicevo strumenti sparsi che troviamo in giro a partire da LibreOffice che è la suite libera per l'ufficio con cui ho lavorato queste slide ma molte altre vi illustro se queste tutte io poi queste slide ovviamente ve le lascio e dentro ciascuna immagine c'è il link alla risorsa questa è Audacity che è un software storico per l'elaborazione dei file audio questo è PDF for teachers vi ricordate durante la pandemia moltissimi avevano il problema di correggere quelli che a me non piaceva questa cosa comunque il PDF magari inviato agli alunni restituito tramite foto tramite mezzi così un po' di fortuna all'inizio della DAD e questo permette di correggere a portare commenti e cose varie attraverso appunto risorse libere questo è un progetto molto interessante a proposito di inclusione che permette di elaborare in comunicazione alternativa aumentata per creare libri con i simboli il governo d'Aragona che ha elaborato questo che sostiene questo progetto che si chiama RASAC ed è elaborato da un c'è un'iniziativa in un laboratorio vicino a me ad Asti che ha sviluppato c'è tutta la possibilità di creare libri su una piattaforma che si chiama SINCA con questi simboli che sono rilasciati tutti con licenza libera c'è compri un gioco per i più piccolini con giochi vari sempre con software libero questo è BUE che è un elaboratore di mappe concettuali e mentali rilasciato da un'università ma non mi ricordo più quale infatti c'è anche la possibilità di fare dei FORP cioè di elaborare prendere il codice sorgente e fare dei nuovi software con tutti questi software GeoGebra è nato libero adesso ho letto che è stato appunto ci sono aziende che poi sono interessate anche perché funzionano e sono utilizzate in ambito scolastico c'è una parte che è diventata commerciale ma ho letto che il codice sorgente è sempre mantenuto con la licenza la licenza libera questa è una semplice lavagna interattiva dove si accede senza alcun account si può condividere collaborare a distanza è molto è al codice sorgente disponibile per chi fa fisica matematica c'è FIFOX è un'applicazione per Android che ha all'interno un sacco di sensori cioè tutti gli sensori che sono all'interno del nostro smartphone vengono così utilizzati da questa applicazione si fa un vero e proprio laboratorio di fisica praticamente in tasca e poi si possono analizzare i dati fare cose che non sono capace a fare lo stesso FET un ambiente open source elaborato dall'università del Colorado se non ricordo male e ci sono tutte le simulazioni scientifiche di fisica matematica va benissimo per le STEM è molto utilizzato a scuola questo è il diagram Anna perdonami se ti interrompo ti chiederei siccome lo chiedono poi anche nella chat in vari modi se puoi aggiungere magari una slide quando poi le carichiamo le rendiamo disponibili a tutti con i link a tutte queste risorse e il loro nome così che chi poi dove potevo ho aggiunto i link nella chat ma sicuramente fa comodo per le esplorazioni anche a posteriori avere il nome e il link di tutti questi siti nascosto nell'immagine non vi piace io lo metto sempre nascosto nell'immagine che si diventa cliccabile l'immagine però va bene se poi condividiamo le slide sul genodo in altra forma non c'è nessun problema li avranno tutti allora grazie sì 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 sono tutti cliccabili ma intanto vi faccio l'elenco assolutamente questo appunto io ho fatto questi ma ce ne sono altre ma infatti io poi perché ovviamente ero in ritardo e Paola lo sa non è che poi non ha neanche senso elencarli tutti qua però io ci sono se avete delle domande molto volentieri vi porto a vederla digitale perché ci tengo perché mi piace perché a proposito di semplicità è forse più immediato ok ha tantissimi servizi non spaventatevi se vedete qua il francese perché sotto praticamente ciascuno di questi di queste piccole di questi quadratini nasconde una nasconde un software un'applicazione questa è la DigiPord se io ci clicco sopra si apre vedete che non mi ha chiesto nulla qua c'è la possibilità di il cambio della lingua in alto a destra vi consiglio di non usare mai il traduttore Google perché manda un po' in tilti il codice francese inglese mettiamolo in inglese creo una whiteboard metto il titolo e metto la domanda segreta perché così poi mi ricordo sicuramente quale è stata in realtà no però va bene ma le persone sono di solito più brave di me in questo in questo e qui è una è una di quelle lavagne che noi abbiamo utilizzato una Jamboard per capire per parlare in linguaggio non open source se io voglio condividere questo questa 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 lavagna con voi basta che io copio il link ve lo condivido qui e voi senza alcuna senza nessun problema potete raggiungermi così al volo poi ovvio che in questo momento non faremo nulla di molto di stratosferico o importante però è immediato ecco infatti c'è stelline ora magari mettiamo forme mettiamo cambiamo colori possiamo scrivere anche c'è il testo quindi qua se io scrivo ciao ragazzi sì no ciao a tutti così posso fare di questi di questo lavoro è una cosa immediata ok come come questa se vado nella rotellina mi trovo anche la possibilità di mettere allora multipage vuol dire che posso fare più pagine posso è come la gemboard aggiungo una pagina qua due tre quattro in alto in alto a destra posso metterci uno sfondo quadretti la uso sulla lim sul digital board ho bisogno di scrivere di avere le righe ok posso metterlo con le righe oppure con con un'immagine o come o come voglio io questa questa digital board no? si salva cioè si salva sì io la salvo se mi posso salvarla so che è Anna e so che la mia password è Anna però io posso esportarla diciamo così come sia come immagine ok faccio lo screenshot ma posso esportarmi la whiteboard esporto la whiteboard così com'è viene fuori il suo nome astruso non importa me lo salvo nel momento in cui io l'ho salvato e poi voglio aprire di nuovo questa 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 board basta che se c'è io questa ora la chiudo facciamo così la chiudo ciao non c'è più se uso di board vado su utilizzare la creo di nuovo metto di nuovo metto un altro nome perché non me lo ricordo più non me lo ricordo più l'ho perso allora metto Anna 1 e poi faccio così non me lo ricordo l'ho perso però l'ho salvato se io l'ho salvato posso importarlo voglio solo farvi vedere che come l'ho esportato posso importarlo e questo e questo eccolo qua il mio tablò lui me lo riporta così come era prima questo è un consiglio che io mi permetto di dare quello di esportare i file ma perché io sono disordinata quindi di esportare i file per poi ritrovarli una e questa è una cosa così al volo una cosa che mi piace molto è il DigiDoc che mi permette come questo è un Etherpad praticamente di nuovo con un semplice link io posso invitarvi a collaborare direttamente su questo DigiDoc senza accessi e senza nulla queste sono cose che io utilizzo a scuola perché mi tornano facili con i miei ragazzi se voi entrate qua ho la chat attiva posso scrivere qua vi dico benvenuti voi qua avete la possibilità di entrare vedete qua in alto negli omini ora siete in sei presenti potete cambiarvi il nome e dirmi chi siete se io qua scrivo cosa ti piace delle OR voi potete scrivere sotto aggiungete scrivete con il vostro colore e così io mi ecco infatti la possibilità di condividere ora qualcosa poi ovviamente ci si ci si aggiusta perché è una collaborazione anche la palestra di rispetto digitale questo no perché comunque siamo tutti insieme siamo in 18 e avremo la pazienza di andarci a prendere il nostro posto avremo la pazienza di di non andare a cancellare le cose scritte dagli altri esiste comunque la cronologia è possibile vedere la cronologia dentro in alto c'è la rotellina con il tempo e io vedo praticamente tutta tutte le modifiche che sono state fatte o la linea del tempo che mi dice c'è chi ha scritto cose quando questo è un è uno strumento estremamente facile ecco questo quando parlavo di cose facili che sono che non complichino la vita vedete qua in basso c'è scritto che il tempo rimasto prima della della distruzione no così di questo file sono 365 giorni perché perché c'è anche un discorso passatemi il termine ecosostenibile perché se noi continuiamo a riempire i server di file e continuiamo a produrre 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 questo a livello di vita diciamo così di pianeta produce un sacco di inquinamento anidride carbonica e quant'altro queste risorse non hanno la potenza delle grandi multinazionali per cui se dopo un anno io questo file non l'ho più toccato non l'ho più modificato vuol dire che probabilmente non mi interessa più e quindi in automatico viene come dire viene distrutto però io posso comunque salvarlo posso salvarlo da qui posso esportarlo posso esportarlo in diversi formati a proposito di interoperabilità che è una cosa estremamente importante a livello di 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 produzione secondo me di risorse open mi permette di esportarlo sia come etherpad che è il suo formato originale in html testo normale mi sono stupita che ci fosse anche microsoft effettivamente queste sono sono open perché permettono anche di utilizzare di scaricarlo non soltanto in formato aperto ma anche in formato proprietario oppure in pdf torno sul portale grazie per le vostre interazione una cosa che a me ma allora questo è da esplorare ovviamente la digicard faccio vedere la digicard perché prima i colleghi penso chiedevano in chat sulla selezione delle immagini se io qua scrivo più e voglio mettere uno sfondo un fondo mi porta il motore di ricerca non mi porta su google ma mi porta direttamente su uno di quei repository di cui poi paolo ci parlerà dopo che è pixabay su pixabay io trovo solo immagini libere in pratica o comunque che posso utilizzare ecco non sono coperte da copyright e non so se io qua scrivo mare me lo trova cerca su pixabay mare pagina pagina seguente questo mare non mi piace ma non importa metto un mare di lavanda posso scrivere del testo ok e poi questo testo lo posso posso fare un minimo non è non è sofisticatissimo non ho non è Canva per citarne uno ecco ha un po' di di strumenti un po' di una cosa bella open dyslexics che è un font a proposito di inclusione ad alta leggibilità che non è solo per chi ha la dislessia ma chi ha problemi di dislessia ma serve a tutti e quindi può essere utile l'utilizzo di nuovo open perché è open source e nulla ci sono poi qua si gioca si fa ciò che ciò che si si crede si vuole con questi con questi strumenti grazie prego posso dire ancora uno si poi 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 metto non lo so perché non so si no è tardissimo ah il digipad ve lo consiglio il digipad perché vi faccio vedere aiuto no però qua avatar creativi carnevale chissà cosa c'è no non ve lo non voglio farlo non voglio farlo vedere perché ne creo uno perché non ho per la privacy scusatemi facciamo così o r crea se qui noi è come un padlet di nuovo per citare il corrispondente proprietario se io faccio più aggiungo un post la cosa che mi piace tanto a me personalmente perché mi torna utile è la possibilità di inserire vabbè posso sempre mettere la chat posso sempre aggiungere posso mettere le registrazioni audio cosa che secondo me se io attivo tutte le cose che sono qua presenti se io faccio più oltre a inserire direttamente un documento condiviso come quello che abbiamo visto prima posso inserire l'audio in un secondo praticamente e così ce l'ho e poi lo metto qua per i miei ragazzi se hanno bisogno di un file audio come supporto inclusione e quant'altro è condivisibile con un semplice link e non richiede password per poter accedere chiede la password per potersi questo è l'unico servizio che chiede la password per potersi registrare dunque Paola io ho visto che sono le 12.53 mi fermo grazie mille per tutte le altre risorse sono qua o al limite come avevamo detto se c'è interesse possiamo anche prevedere di fare qualche incontro dedicato io sono disponibile grazie grazie mille Anna davvero è stato molto interessante grazie della tua disponibilità adesso torniamo rapidamente alle se riesco perché sto facendo eccoci qua sto facendo io confusione adesso volevo farvi vedere rapidamente le ultime le ultime slide di oggi e sono molto contenta della partecipazione di Anna e di tutte le risorse che ci hai fatto vedere tu perché vanno ad aggiungere due commenti molto alti su quello che ha condiviso Anna prima di tutto ne abbiamo parlato rapidamente la volta scorsa ma ci tengo a dirlo esplicitamente a volte ci sono delle barriere tipo io non so francese tutti gli strumenti qui disponibili sono tendenzialmente spiegati in francese e quindi all'inizio qualche difficoltà io l'ho avuta però in un attimo poi ci si organizza con i traduttori automatici il supporto della machine translation e dopo vi do qualche link anche a risorse di quel tipo lì perché possono far comodo anche per adattare risorse open e questa è una cosa l'altra cosa è che il mondo dell'open source di cui Anna ci ha fatto vedere un po' di strumenti estremamente utili ed efficaci è in continua evoluzione ora io per prima per tanti motivi continuo ad utilizzare anche i software proprietari anche i software che sono scelti dalla mia università o da altri contesti in cui lavoro perché nel concetto di open c'è prima di tutto l'obiettivo di dal mio punto di vista e per come lo interpreto io poi ciascuno di voi è libero di fare la propria scelta nel mio concetto di open c'è tutto incluso cioè tutto ciò che può all'inizio aiutare a condividere le risorse e poi a rilasciare risorse educative con licenze è uno strumento all'opera dell'open education e poi ci sono i contesti ogni istituzione ha fatto delle scelte in merito alle risorse scusatemi agli strumenti e software che vuole utilizzare ai sistemi operativi che vuole utilizzare e quindi noi lavoriamo tutti in funzione anche del contesto in cui ci muoviamo se in quel contesto abbiamo la possibilità di muoverci anche come Anna suggerisce nella direzione di software open source o di formati open io sono molto favorevole a questo laddove questo non ci faciliti nella collaborazione con altri o nella condivisione allora dal mio punto di vista vince il concetto di open più allargato che include anche questi strumenti è l'approccio che mi interessa di più come scelta mia però ripeto ciascuno di voi poi è invitato a fare le proprie considerazioni questi strumenti però andranno evolvendosi perché la comunità li vuole li vuole sempre di più e quindi verranno sempre più usati brevissima vi faccio un cenno che termina anche poniamo che Anna volesse condividere la risorsa che abbiamo co-creato insieme poco fa non importa se bella o brutta per creare correttamente la OIR l'abbiamo visto prima con il license chooser ma adesso vi rifaccio vedere questo schema di base il modo migliore per attribuirla è mettere sempre il titolo della risorsa mettere sempre l'autore della risorsa anche quando non è obbligatorio potendo perché è giusto riconoscere chi fa gli sforzi per condividere per creare a beneficio di tutti mettere il link la source è il link la sorgente alla risorsa in modo che sia sempre raggiungibile e mettere la licenza questa è proprio la base di partenza e per una volta abbiamo la fortuna che l'acronimo è anche traducibile in modo conservativo anche in italiano titolo autore sorgente licenza comunque trovate poi anche questo nelle slide in aggiunta a questo vi faccio una domanda che è un po' un dilemma esistono esistono sempre due modi diversi e anche qui mi riallaccio a quello che diceva Anna per fare per costruire delle risorse open e qui il dilemma è mi interessa come priorità che le risorse siano belle e ognuno poi ha il proprio concetto di bello ma penso abbiate capito cosa intendo o che siano riusabili come ripeto criterio guida per la loro creazione allora io qui vi faccio vedere due esempi su questi stessi contenuti se volete vi condivido anche questi non ho nessun problema a caricare anche questi su Zenodo insieme al resto partiamo dall'esempio bello qui io ho utilizzato per creare queste risorse guardate qua la grafica non è mia quindi posso dirlo che mi piace tanto un modello che è disponibile in uno dei repository che poi vi indico in fondo perché oggi ve ne do tanti i repository un modello di slide che esiste ed è scaricabile adattabile come template sia per lavorare offline con il formato ppt che tendenzialmente è quello di powerpoint ma che è apribile sia con libreoffice che vi ha citato Anna ma anche con openoffice che è un'altra suite che è simile molto a microsoft office e che apre gli stessi formati sia in google slide quindi sono due formati diversi che voi potete riusare e io qui non ho fatto altro che creare rapidamente delle slide che adesso non mi interessa condividere con voi sul contenuto ma come vedete sono una diversa dall'altra qui ho proprio ricreato alcune cose che abbiamo visto insieme nel primo incontro vedete che ci sono le stesse immagini con lo stesso link sulle quali abbiamo ragionato insieme poi la base sulla definizione di open accessibile open gratis open è più di gratis vedete quanto sono carine queste slide ripeto con pochissimo sforzo vi ho rimesso le five hours il contesto eccetera eccetera però come vi dicevo ci sono anche altre modalità per lavorare sulle slide e qui ve ne faccio vedere uno diverso questo formato che invece è stato pensato anche da me in collaborazione con tanti altri quindi già queste slide sono un derivative sono molto molto più basiche come vedete ok e le domande sono basiche il font è un font open poi ci sono alcune parti che sono in comune con le altre eccetera eccetera qual è il il razionale dietro questi due modelli allora le slide belle riusano sono un derivative sì perché usano un formato che è stato condiviso in modalità open con licenza aperta hanno un obiettivo le slide riusabili quale obiettivo hanno queste slide più brutte sono nate per lavorare sui benefici della open education con l'obiettivo di supportare primariamente i bibliotecari ma in realtà anche i ricercatori i docenti gli studenti stessi e gli instructional designer cioè i progettisti didattici che come me come Bianca non sono sono un po' un ibrido non progettiamo contenuti didattici ma non siamo in aula sempre non siamo sempre online a tenere dei corsi l'obiettivo tantomeno lo sono i bibliotecari in tanti contesti però magari hanno bisogno di fare anche loro un po' di advocacy sull'open l'obiettivo lì qual era? fare in modo che il modello di base fosse facilmente adattabile cambiando i colori cambiando il font aggiungendo dei loghi che vedete che qui non ci sono perché è stato creato in un ambito ma non compaiono i loghi di quell'ambito per far sì che chi lo riusa possa adattarlo il più in fretta possibile con pochissime competenze all'istituzione per la quale sta comunicando quindi io cambio il font usando il font del Politecnico aggiungo i loghi del Politecnico metto i colori di base del Politecnico e immediatamente l'immagine del Politecnico c'è in queste slide e io come lavoro non ho fatto niente ho avrò tenuto i benefici dell'open education che mi servivano per fare advocacy che fosse per parlare dei cittadini degli studenti dei docenti o dell'istituzione ma ho parlato attraverso una lingua coerente con quella dell'istituzione ecco le altre slide con le immagini hanno un template che in sé io riuso facilmente hanno un impatto di immagine diverso dal mio punto di vista personale più piacevole per il mio gusto e vadate che le ho create tutte e due io ma hanno proprio degli obiettivi diversi quindi quando quando voi create uno IAR lo stimolo che vorrei darvi è questo pensate anche a chi volete la riusi e facilitate laddove possibile il riuso da parte di altri perché anche se la create con un software proprietario la vostra scelta del formato con cui la salvate e con cui la condividete è già fondamentale per abilitare altri a poter intervenire in modo massivo su quelle slide o meno e il modo in cui la progettate se è una vostra intenzione iniziale quella di renderle riusabili da altri farà sì che farete delle scelte in una direzione o in un'altra dopodiché delle seconde slide io voglio creare una versione bella l'ho creata sì più bella per me per il mio gusto la voglio adattare a un'utenza che è più sensibile alle immagini o meno lo posso fare sì caspita posso cambiare lo sfondo di qualunque slide perché il formato è aperto ed è aperto anche per me che l'ho creata quindi fateci caso a questo aspetto e cercate il più possibile di condividere il formato più facile per altri poi condividete anche l'altra parte che avete fatto più bella come esempio di riuso in modo tale che gli altri vedano che possono farlo anche loro anche senza competenze e li coinvolgete e poi condividete il formato bello per far vedere che potenzialmente se vogliono usare le loro competenze aumentare le loro competenze o condividere gli studenti come esperti di altri riusi e di altre modifiche più belle magari è un'opportunità che possono avere a disposizione non abbiamo tempo per vedere in dettaglio adesso un esempio sull'uso di OER con un obiettivo specifico che è quello di diffondere la cultura dei sustainable development goals se vi interessa magari vi inviterei a darmi un feedback anche solo nella chat dicendo parliamone e io integro queste slide nella prossima volta come spiegazione anche ma intanto ve le lascio qui perché quello che volevo condividervi qui è il livello altissimo che si può raggiungere invece di condivisione quando dei docenti dell'MIT inclusi dei premi Nobel si mettono insieme per creare uno strumento condiviso in modalità open che vi invito ad esplorare usabile a livelli diversi dai bambini guidati a livello di scuole primarie fino ai ricercatori universitari autonomamente che sono interessati a guardare dietro le quinte per ragionare insieme su quali sono i fattori che possono contribuire alla diminuzione dell'aumento della temperatura della nostra terra entro il 2100 ognuno di questi parametri in Enrolls è modificabile tutti gli strumenti di formazione su come usarlo sono rilasciati in modalità open ci sono dei webinar gratuiti cui chiunque si può iscrivere e partecipare per capire come aiutare la propria classe a ragionare su questi temi i PhD i dottori di ricerca o gli studenti di dottorato possono diventare istruttori per aiutare a diffondere la cultura della sostenibilità e capire dove si può intervenire a diversi livelli quindi è un esempio di OIR di cittadinanza attiva di uso sostenibile delle risorse di pratiche che possono essere intenzionalmente incentivate dal basso e di cultura e di cittadinanza attiva che io trovo meraviglioso quindi se volete lo esploriamo meglio insieme se no ve lo lascio comunque già anche in queste slide ma ditemi se vi interessa perché se vi interessa nel prossimo incontro lo vediamo sotto la luce della pratica e poi non le esploriamo adesso perché ve le lascio tutte vi ho messo delle slide con tutti i link a una serie di risorse riusabili a volte gratuite e basta ve l'ho specificato a volte un mix di risorse gratuite e con licenza sia di immagini che le slide per esempio che ho fatto vedere io sia come anche i machine translation tools ok quindi alcuni software che vi possono aiutare quando trovate una risorsa educativa in un'altra lingua e che però volete riusare nella vostra e di fondo vedete che posso prendere una risorsa tradurla adattarla modificarla in parte integrarla con altri pezzi di altre risorse sì se sono open potete per favore fatelo e la prossima volta vediamo insieme anche come ragionare su alcune pratiche aperte in Rhodes ne è un esempio alcune altre che abbiamo visto insieme oggi sono un esempio direi che per oggi ci fermiamo qui Paola posso chiederti una cosa posso condividere e aggiungere al fondo un link di un sito europeo della comunità europea legato a uno dei progetti europei che parla del diritto d'autore nella didattica sì certo nei diversi paesi come regolamentato e ci sono anche risposte a quelle domande che si facevano prima era un progetto legato proprio alla proprietà intellettuale questa cosa che è così bella le idee diciamo così come bisogna valorizzare le idee dei nostri ragazzi e di tutti quanti grazie mille Anna lo aggiungi alle tue slide o perfetto come vuoi tu ma io te lo mando e poi tu valuta va bene allora lo aggiungo a queste benissimo grazie mille e poi le tue slide le aggiungeremo anche quelle se sono condivisibili con licenza si si vai sulla pagina di Zenodo altrimenti nella mail con il link che tu mi farai avere no 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 ma io te le mando te le rimando con sto aggiungendo i link così sono e la licenza tutte nell'immaginetta ok e la licenza controlla la licenza la licenza l'ho già messa l'ho anche linkata quindi grazie mille benissimo grazie a tutti se avete compilato già il form benissimo se no fatelo e controllate la vostra mail in modo che possiamo poi mandarvi l'attestato grazie Anna di cuore e grazie a voi per la partecipazione grazie a presto a presto